La riforma della politica Meno politici, più politica Ridurre le spese correnti Come si farebbe in una famiglia italiana normale Migliorare le entrate Migliorare per dare voglia di crescere La diplomazia Meno guerra, meno guerra, più diplomazia E l'Italia nel mondo che lei insomma Le sei vocazioni, abbiamo sei vocazioni, investiamo su quelle Beh, poi qua vedete giustizia, integrazione, ambiente e energetico Per la qualità della vita E verso un paese laico? Meno chiesa, più Gesù Grazie a tutti